Ciao a tutti amici, benvenuti con questo video, io sono Pimpos e oggi torniamo su The Fear 2 No, torniamo, cioè torniamo nel senso che tempissimo fa ho fatto il primo The Fear Quindi oggi siamo su The Fear 2 Quindi ragazzi, Marta è tornata, più incacchiata e più brutta che mai Siamo alle prese con Marta, ovvero la nostra ex moglie Quindi continua a perseguitare nostra moglie attuale e nostra figlia Ragazzi, ragazzi, andiamo Allora io qua vedo un art, un cuore Quindi guadagno a cuori guardando video Spero che quest'unico cuore mi basti a completare qualcosa Vabbè, new game, forza A live di new game Marta, non cominciare a farmi gli jumpscare perché veramente ti... Non ti dico quello che ti faccio Allora, se tutto fosse stato un incubo, devo assicurarmi che mia figlia sia in salvo Ho bisogno di trovare la chiave della sua stanza ed entrare nella sua stanza Suggerimento, gli oggetti luminosi sono i tuoi obiettivi Vabbè, vabbè Allora, grafica leggermente cambiata rispetto all'ultima volta Oh no, impressione mia Vabbè Salve, moglie, ciao Ah, praticamente ci siamo svegliati nel bel mezzo della notte Quindi con... con il pensiero che tutto questo fosse stato un incubo Quindi prendiamo... che chiave gigantesca tizio che tiene in casa però Nemmeno le celle hanno le chiavi così grandi Ok, sullo specchio non ci riflettiamo Quindi presumo che tizio... il cattivo sei tu di questo gioco Non ti si vede nemmeno allo specchio Dicono che sei il conte Dracula secondo me Il cattivo di tutta questa situazione Ok, lì c'è la bambina La vediamo attraverso i muri E quindi... E allora, raga, ho ragione io Il tizio qui è un fantasma Ok, tu dormi Tranquilla che vado a vedere io Se la bambina sta bene Posso uscire? Posso uscire, sì Ok Apriti porta Apriti sesamo Moglie Le scatole Metti le sistemate Che poi mi cadono addosso E mi faccio male Ma non solo devo andare a vedere le cose durante la notte Devo pure stare attente alle scatole Che c'è qui? Ok, la bambina è qui Perfetto Posso entrare? Eh, bimba? Stai bene, bimba? Sì, devo assicurarmi che mia figlia sia in salvo Che succede? Questa non è la mia casa Dove è mia moglie e mia figlia Ho bisogno di trovare la chiave E lasciare questa casa Dove siamo andati a finire? Scusami In che senso? Scusami tizio Eh, effettivamente è un po' diversa rispetto a prima Regà, andiamo avanti Allora, posso uscire? Sì Lì c'è qualcosa Aspetta prima di aprire le porte Fammi assicurare C'è una chiave Perfetto, andiamo alla chiave Andiamo a prendere la chiave Ho un po' di paura però di Marta Che quella la spunta quando non te l'aspetti Presa la chiave Però con gli oggetti luminosi effettivamente E' più facile Sarebbe stato meglio Non aggiungere Questi Queste zone luminose Per indicare La direzione dove dobbiamo andare Vabbè pazienza Apro qui Lo stesso Me ne vado in posti dove non mi competono Vediamo un po' Lo so che poi mi vado a Che è? No? Che c'è? Holding Mi I need to escape Che devo fare? Mi ha ucciso Dovevo tenere premuto Ma non l'ho vista Marta Cacchio è Dovevo tenere premuto O premerlo in continuazione? Vabbè retry Retry Ho perso una vita quindi Giusto? Allora se io Io dovevo tenere premuto O dovevo schiacciare in continuazione Perché non me le dite le cose? Che poi io muoio inutilmente Marta non mi devi rompere le scatole Avanti Fammi proseguire Fammi proseguire Mi ammazzi di nuovo Oh E io clicco Adson Ok Stavolta ce l'ho Muori Marta Affancucchia Muori di nuovo Ok Qua ti fai il bagno? Non voglio sapere altro Qua che c'è? Un asciugamaro Niente di che Un lavandino Eh sono entrato qua per fregare Niente Un gabinetto Una lavatrice in disuso Marta lavali i vestiti Che poi ti avvicini a me E Fai un po' di odonino Ok andiamo di là Ho capito Andiamo di qua Vado Caricamento ogni 10 secondi Mia moglie mi ha lasciato due note Ho bisogno di trovarle E capire quello che sta cercando di dirmi Va bene Da dove andiamo? Sempre lì in cose luminose Cerchiamo le cose luminose Ok attraverso il muro però Qua se questo si apre? Sì Ma non c'è Nulla Nulla di che? Questi si aprono? Questi non si aprono Che apro a fare io le cose? Ok qua c'è qualcosa Non si apre Una tendina non si apre First you must collect all the notes Va bene Allora si esce da qui Perfetto Dobbiamo collezionare tutte le note prima Là c'è Ce n'è una Però si vede una distanza È molto inquietante Questa Questa zona però Ho paurissima Purissima Intanto andiamo di qua Marta non rompere Marta Marta dove sei? Marta sei sempre più brutta Marta Ma fattelo un po' di lifting Ma quantomeno un po' di trucco Marta Che non è che possiamo giocare così ogni volta Ok una trovata Qua una tazza in disuso Là c'è l'altro Ma vediamo che c'è qui Niente Adesso io esco E sicuramente mi attaccherà Perché Marta è bastardina Giusto Marta? Perché non te ne vai? Marta Fatti una nuova vita Marta Fattela una nuova vita Perché Non è che esisto solo io E che cacchio te la ridi a fare? Apriamo qui Quindi qua Salve È apparecchiato per 44 persone Ma sei sola Marta Sei sola come un fantasma Non è che E io di sicuro non mangio qui Che hai preparato tra l'altro? Piatti vuoti Nemmeno sai cucinare Ecco perché ti ho lasciato Che è? Che è? Che è? Marta non rompere Marta impara a cucinare Prima di Prima di inseguire le persone Ok abbiamo trovato Adesso mi attacca sicuro Marta dove sei? Marta dove sei? Barricata Porta barricata Andiamo di qua Ho paurissima Intanto usciamo Usciamo Non mi hai fatto niente Marta Marta sei stupida Ok andiamo avanti Stanno succedendo strane cose Ho bisogno di prendere il coltello Per proteggermi E dovrei trovare la chiave Per lasciare la casa Ma ti sei una torcia Spaccagliela in testa Che fai prima? Che devi fare col coltello Che quello è una fantasma? Che ci devi fare effettivamente Col coltello che quello è una fantasma? Ora che ci sto riflettendo No fammi capire Che è? Cadono queste cose? No? Va bene andiamo avanti Qua che c'è? Scatoloni Visto? Visto moglie Che Marta quantomeno le sistema bene Le cose che non cadono Eh sotto questo punto di vista Marta era migliore Andiamo avanti Andiamo di qua Saliamo Saliamo di qua Là c'è qualcosa Che brilla Andiamo di qua Dove vado? Destra sinistra avanti E basta Andiamo di qua va Andiamo a sinistra Visto che qui brillava l'oggetto Un computer Che è? No Marta non ramiro Non devi rompere Marta Marta ti ammazzo Marta Marta ti spacco le ossa Che non hai più però Intanto mi prendo qua la chiave Ok Chiavina Prendiamo la chiavina Allora si aprono Si aprono i cassetti allora No ma la manina Non spuntava prima Vabbè Apriamo qua Qua non si apre Quindi non si aprono Niente la chiave l'abbiamo presa Dobbiamo trovare il coltello Giusto? Si Computer che non si accende Il coltello è lì di là Marta no fammi prendere il coltello Che ci devo fare col coltello? Non lo ho capito Un macchetto questo Un macchetto Un macchetto Marta Ho un coltello Quindi non ti avvicinare Non capisco il senso però Perché tu sei un fantasma Quindi non capisco come colpirti Come potrei farlo Ragazzi Dettagli Oh no ha preso mia figlia Dove sono andati? Ho bisogno di controllare tutte le stanze Per trovarla Ciao È davanti a te tizio Non c'è bisogno di controllare le stanze Tanto sono sicuro che appena avanzo Le sparisce Non la uccidere Marta Marta ti stacco Ti stacco la testa Marta Marta ti stacco la testa Che brutta Marta Sei bruttissima Marta Perché devi rompermi le scatole? Marta Fatti una nuova vita Vai a farti una storia con lo Slenderman Che fai prima secondo me Vedi qua C'è niente qui? Un cassetto lì sotto Mi sembra Illumina E Marta Non rompe Ho un coltello Marta Marta ho un coltello Che il tizio non usa Perché evidentemente è intelligente Quindi lo capisce Che un coltello Conficcato in un fantasma Non fa nulla Vabbè io chiapro a fare qui le cose Che le cose sono illuminate Dico io Giusto Che esplora a fare inutilmente Che tanto le cose si illuminano Quindi andiamo dritti va Andiamo Ciao Eh Tranquilla Non entro lì Lo capisco che in cucina non vuoi che entri Però io tranquillo Non entro là Me lo dico Ma ecco bravo Chiuditi là dentro E fammi una bella insalata di verdura va Condita con olio e ecceto Andiamo di qua Lavatrice sempre in disuso Marta sei Sei sporcacciona Marta non lavi mai Marta non lavi mai Marta Andiamo di qua Andiamo dritti di qua Perfetto Entriamo Ce ne sono qui Salve Chi è Non è qui Eh ho capito Non è qui Usciamo allora Meglio così Dove andiamo Andiamo a destra Caricamento Dopo caricamento Non posso essere più veloce di questo demone Eh Ho bisogno di seguirla Nello scantinato E guardarla in faccia Guardarla in faccia Eh ciao Ho capito La seguo La seguo Ma lei Ma là c'è qualcosa che brillava però Però se mi dice di seguirla La seguo È sicuramente chiusa allora Ok Gli oggetti sono perduti Ok Dobbiamo trovare gli oggetti E poi andiamo nello scantinato Marta te ne sei scesa Quindi non rompere Non sei Non puoi essere in due posti contemporaneamente Che cacchio sei Sei un fantasma Rompiscatole Marta non rompere Ok Però nel primo Il primo faceva più paura Cioè Marta quando appariva Ti faceva saltare dalla sedia Qui nemmeno si vede Che ti ha Ti viene da dietro Cioè io ancora La faccia di lei Non l'ho vista Tranne quando si vede normalmente in giro Ok Ecco adesso sì Questo è quello che intendevo Esattamente Esattamente questo è quello che intendevo Perché non mi sto zitto Perché devo parlare Perché le cose andavano bene Fino a pochi secondi prima Perché non mi sto zitto Ma non parlo più Non me le chiamo più le cose Mi gufo da solo Mi gufo Vabbè possiamo andare Ok Scendiamo lo scantinato Scendiamo Scendiamo Ok Mamma mia Questa è la voce di mia figlia Lei è in pericolo Ho bisogno di salvarla Quindi uscire dalla casa Ok sto arrivando Piccola tranquilla Piccola sto arrivando Non piangere più Sta arrivando papà A salvarti il culino Eccomi qui Perché Perché presumo che non sia lei O quantomeno che appaia Marta Bimba Sono io papà Attenta che ti bruci Ti bruci bimba Ti posso pre... No non è lei Non è lei Non è lei Non ti fidare Non è lei Non è... È lei ma c'è Marta Eh che faccio? Ho un coltello Sono pronta ad utilizzarlo Marta Ho un coltello Che ti stacco la testa Marta Marta Do... Che è? Dove è la bambina? Che hai fatto la bambina? Vieni qua Marta Perché ti stacco gli occhi Vieni qua Marta dammi la bambina Non è tua L'ho fatta con mia moglie Non è tua Ho bisogno di finire questa assurdità Dovrei ottenere informazioni dal libro Per capire come uccidere questo demone Avanti Cerchiamo il libro Dai Allora che tu sei preso a fare il coltello? Speravi di poterlo uccidere con un coltello? Ma... Contento tu Ah di qua non c'è niente Quindi saliamo le scale Marta sto arrivando Sto arrivando per ucciderti Marta Sto entrando ah Non mi fare niente Ok Libro numero uno Perfetto Andiamo da questa parte Saliamo ancora E saliamo ancora Tanto Il fiato non mi manca Andiamo a destra Lì c'è un altro libro E' troppo facile però Con questi oggetti luminosi Oh si Marta perché ti rompo le ossa Marta Vattene Ok Libro numero due Preso Libro numero tre Con tutto Eccolo là Non ha senso Perché è troppo facile così Oggetti luminosi Che li vedi tipo a distanza di Di scene Ma chi l'aveva vista questo? Ma Marta Affan cucchia Ma te fai Spiderman Fatti vedere Una volta per tutte Normalmente Anziché essere appesa alle pareti Una collina Un passeggino E credo che Marta Si faccia la passeggiata Dentro il passeggino Il passeggino Ok Presi tutti i libri Posso andarmene Da lì Troppo facile così Avanti Forse usciamo Usciamo Ho salvato mia figlia Ma lei ha ancora mia moglie Devo salvarla Dovrei trovare dei suggerimenti Tra le note nella casa Va bene Eh La stessa scena di prima Sì ho capito Eh ora Hai mia moglie Sì lo so Brava brava Come te ne sei in possesso Stavo dormendo comunque Scappa E noi dobbiamo trovare i libri Libro numero uno Andiamo di qua Andiamo al libro numero due Marta Non rompe Marta Libro numero due Dove sei? Eccolo qui Apri Apri Ok Prendiamo il libro numero due Libro numero due Preso Quanti libri in questo gioco Troppi libri Tizio Ma avventurati quando Già sai le cose Anziché andare a cercare I libri per la casa È l'ultimo libro Preso La porta di uscita È di là Andiamoci Andiamoci Perché adesso sicuramente Appare Marta Marta Non ridere Che cacchio ridi a fare È tempo di sbarazzarsi Di questo demone Dopo aver salvato mia moglie Terminerò Questo Vabbè Contento tu Basta che ci credi Tizio Io sono con te Io ho fiducia Ho piena fiducia in te Che tanto ti controllo io però Quindi tu Dovresti avere fiducia in me Qua c'è moglie Moglie vieni qua Moglie Nella stessa posizione Alla figlia Chi è? No non la uccidere Marta non la uccidere Marta Tranquilla Marta non ti faccio nulla Dai non la uccidere Che torniamo assieme Forse Marta Ti ammazzo Marta Ti ammazzo Marta Ecco bravo Bravo tizio Tagliali la testa Tagliali la testa Che fai tizio? Ecco Fatto Eh È morta È morta Marta È un fantasma Marco Mi fa a morire Con un coltello Marta Come fai a morire Con un coltello? Grazie per esserti unito A noi In questa avventura Terrificante Hai completato con successo La modalità scenario Ci sono altri 20 capitoli Per te Per divertirti Eh ci sono altri 20 capitoli Ho bisogno di trovare le chiavi Per uscire dal giardino Eh Shani Ob Sì ok ho capito Dove siamo qua? Siamo in una nuova location Aspetta Torniamo al menu Vediamo un po' Perché ho sempre un cuore Comunque Allora Select level Allora Story Nightmare Escape Ah quindi ci sono diverse modalità La storia l'abbiamo completata Ragazzi Quindi Nightmare Dovrebbe essere Quello che abbiamo iniziato Adesso E poi alla fine Abbiamo la modalità Escape Quindi ragazzi Altri 20 capitoli Se volete che continuo Questo gioco Fatemelo sapere nei commenti Ovviamente lasciate tanti like Al solito Quindi se vi è piaciuto Se lasciate un bel like Vi ricordo che potete seguimi Anche sul pagino Facebook Twitter Seguimi a tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E perciò è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Minecraft Finalmente ho fatto L'aggiornamento E quello zombie Mi sembra nuovo Può essere Ci sono zombie nuovi Ragazzi Fatemi sapere Che sono carini Nihihihihihh Grazie a tutti.